Parliamo con Peppino Bondonno e con Beppe Bagni che sono gli autori di un bel libro uscito qualche tempo fa suonare in caso di tristezza. Peppino Bondonno è docente di italiano e storia presso il liceo artistico di Fermo. Beppe Bagni è stato per molti anni insegnante di chimica in un istituto tecnico di Firenze e anche il presidente del CIDI e con loro parliamo di un tema che loro affrontano in questo libro che mi sembra molto interessante e molto attuale anche. Voi parlate del tema della formazione dei docenti e vi confrontate su questo con tesi che però poi in realtà sono molto concordanti fra di loro. Peppino ad un certo punto scrive a me piacerebbe e poi Beppe Bagni risponde dicendo sì anche a me piacerebbe ma ci sono delle condizioni per poter realizzare questi nostri desideri. Allora Peppino Bondonno che cosa ti piacerebbe in fatto di formazione? Ma intanto mi piacerebbe che non succedesse più come è accaduto a molti insegnanti della mia generazione di quelli precedenti di essere precipitati nella scuola facendo un concorso che per esempio che di fatto era un esame universitario in più diciamo anche senza e trovandosi poi a dover costruire da soli un proprio approccio pedagogico o da soli o con gli altri insegnanti di cui avevi più stima, di cui avevi più rapporti e più relazioni. Io poi ho avuto la fortuna di avere insegnanti che spesso erano appunto legati al CIDI che erano insomma che non erano avari di consigli anzi spesso andavo anche a sentire alcune loro lezioni nel loro buca come si faceva proprio per imparare. Mi piacerebbe moltissimo per esempio che si arrivasse anche dando una curvatura non solo ma anche dando una curvatura alla formazione universitaria, si arrivasse per chi vuole insegnare già uscendo dall'università con elementi e competenze in più. Mi piacerebbe per la verità che si tornasse indietro rispetto a una scelta che io considero profondamente sbagliata che è quella del 3 più 2 nell'università che non è per nulla formativa non solo in generale. Mi piacerebbe che si possa immaginare per esempio non so se l'anno è il semestre sabbatico per i docenti, per un momento voglio dire di formazione reale, mi piacerebbe che si potesse dare fiato, corpo, organizzazione, naturalmente nessuno lo impedisce, ma dare una struttura maggiore a forme di auto aggiornamento dei docenti, di confronto reale su quello che serve, su quello che si è imparato. Ora io credo che da questo punto, e poi mi piacerebbe naturalmente un sistema di reclutamento che non riproduca costantemente il precariato perché questo è un elemento fondamentale. Prima di tutto aumentando moltissimo, perché poi di fatto il precariato è un elemento che rende come dire molto più difficile formarsi, perché ci si forma anche stando in un ambiente, lavorando in un contesto, anche girando in alcuni momenti della propria vita, ma insomma girando possibilmente per scelte e non per necessità. Ecco, da questo punto di vista io credo che formare i docenti sia un elemento fondamentale, non lasciare soli e soprattutto non trasformare la formazione dei docenti in un mercato anche economicamente scandaloso, perché credo che veramente la formazione di un docente debba essere un diritto, così come dovrebbe essere il diritto alla gratuità della formazione universitaria. Tutto questo mi piacerebbe naturalmente, mi rendo anche conto che non mi pare che il governo in carica sia molto in sintonia con i miei desideri, questo lo so da solo, ma non a caso io mi colloco all'opposizione di questo governo, quindi ma mi pare che da questo punto di vista ci vorrebbe sulla questione della formazione dei docenti un po' meno propaganda e un po' più anche confronto con l'universo dei docenti per capire cosa realmente servirebbe. Senti Beppe Bagni, tu ovviamente sei d'accordo su gran parte delle cose che ha detto Peppino, però va tutto bene, ma quali sono le condizioni che si devono creare perché questi desideri che ha elencato Peppino e che molto probabilmente sono anche i tuoi si possano realizzare? Sono i desideri della stragrande maggioranza degli insegnanti, questo non ho dubbi che nessuno è contento di come si diventa insegnanti in questo momento in Italia, nessuno è contento, nemmeno penso chi passa i concorsi perché sa comunque che ha un futuro di precariato troppo lungo, in cui sei sballottato da una parte all'altra, in cui la tua preoccupazione è acquisire punteggio e non esperienza, quindi questo sistema non va bene per nessuno, non va bene pensare che il concorso prepari, il concorso seleziona, ed è una serie, lo prevede la nostra Costituzione, il concorso ci vuole perché la selezione ci vuole, ma dov'è la fase di preparazione? Soltanto gli esami universitari, soltanto la fase accademica può preparare all'insegnamento? No, io sono un chimico, nel mio percorso di chimico ho fatto tantissimi esami, non ne ho fatti uno di pedagogia o di antropologia o di epistemologia, l'avessi messo nel piano di studi come esami complementari e roba del genere me l'avrebbero direttamente bocciato, perché non è concepibile. Bastano i 24 crediti formativi universitari della normativa attuale? No, perché si acquistano in due mesi su internet queste università telematiche, è solo una spesa e lo si può fare poi in una grandissima rapidità e sono esami, il problema è che la formazione degli insegnanti non può essere fatta da una sommatoria di esami, deve basarsi su una forte competenza disciplinare, nella secondaria e secondo rado non c'è dubbio, ma a quel punto di partenza, su quel punto di partenza, poi devono innescarsi capacità di dialogo con gli alunni, capacità di gestione del gruppo, capacità di saper tradurre in interesse per gli alunni il concetto, la conoscenza, non si può formarsi a spese degli alunni dei nostri primi anni di scuola, né si può affidarci al docente che trovi nella scuola più esperto, perché comunque è un docente che sta a fare il suo lavoro, ma non può essere un modello di riferimento, abbiamo bisogno di una specializzazione, a Peppino nella lettera rispondo, giustissimo tutto quello che tu dici, però secondo me ci sono dei passaggi obbligatori, fino a quando noi non arriveremo a dire che un docente è laureato con il massimo della competenza disciplinare, e poi dopo ha un anno di tempo per formarsi in una formazione mirata alla classe di concorso che va a insegnare, mirata alla classe di concorso, in quell'anno trainante è il completamento della preparazione disciplinare nelle altre materie che tu verrai chiamato a insegnare, perché non è pensabile che un chimico come me possa andare alle medie a insegnare scienze in generale, perché? Perché io non posso aver fatto uno o due esami su 30 in quel percorso, ho bisogno di avere un anno di tempo in cui la scuola mi dice come devo completare la mia formazione accademica universitaria e quali sono le competenze che nello stare in classe devo saper gestire e così in quell'anno di tempo io avrò un soggetto forte della formazione che è l'università, ci mancherebbe, è una specializzazione universitaria, ma l'università dovrà collaborare con la scuola, io credo che questo sia qualcosa di fondamentale, non possiamo continuare a scommettere sulla buona volontà o sulla formazione in servizio che fanno quelli che magari nemmeno hanno bisogno di formazione, la formazione in servizio a questo punto si innesta in una struttura forte perché non ci si forma, quando si entra a scuola non si è finita la formazione, si deve trasformare quella formazione nella formazione permanente dentro la scuola e per fare questo hanno bisogno dell'associazione professionale come il CIDI, come tutte le altre che ci sono, di una scuola riflessiva, di un'autoformazione in cui ci si trova fra noi e possiamo lavorare. Io ricordo che dieci anni fa, prima della Moratti, le cattedre permettevano ore a disposizione, c'era 14 più 4, c'era 15 più 3, c'era 16 più 2, quelle ore non erano soltanto ore buone per andare a fare supprenze e coprire i colleghi malati, erano anche ore in cui tu potevi prendere un incarico di lavoro per gli altri, di lavoro con gli altri colleghi del tuo dipartimento, con l'idea di riempire le cattedre fino a 18, le volte fino a 24, fa sì che il lavoro dell'insegnante è diventato di entrare in classe e quando esci di classe adempi agli obblighi burocratici e poi se ne vai. Questo non è un luogo di studio e allora è chiaro che questa scuola diventa un luogo solo di pratiche e non può essere un luogo di sola pratica, abbiamo bisogno che ci sia quella autoformazione che diceva prima Peppino che significa spazio e diritto alla riflessione sul proprio lavoro dentro la scuola e se abbiamo una collaborazione permanente strutturata con l'università è uno stimolo fortissimo oltre a dare ai futuri insegnanti una competenza disciplinare e didattica che viene da un tirocinio vero da mettere i piedi nelle classi e avere tutto il tempo di riflettere sul proprio lavoro ma senza toccare la realtà della scuola con soltanto esami stando fuori della scuola non ti puoi formare quell'insegnamento. Ecco secondo me il modo in cui si realizza è un ripensamento totale sul fatto che non basta la competenza accademica disciplinare, quella competenza deve poi essere curvata in una saper gestire la classe, sapere entusiasmare, interessare gli alunni a ciò che tu racconti loro perché altrimenti i buoni insegnanti si formano a spese dei propri allievi. Senti Beppe ma tu hai detto una cosa molto interessante e cioè che spesso poi accade che il docente si forma poi in classe quando va ad insegnare un po' a spese degli alunni, sulle spalle degli alunni ecco a te è capitato così? Cioè anche a te è capitato questo? Sì io ricordo il mio primo anno a Borgo San Lorenzo Peppino l'ho detto tante volte insegnavo chimica alle Sarte di Borgo San Lorenzo entusiasta io di andare a scuola quindi avevo preso i miei appunti universitari l'atomo di Borgo, a Raterford la teoria delle particelle e poi dopo due mesi Reginaldo chiede alla collega di italiano ma le nostre alunne di classe che abbiamo insieme ma cosa pensano di me? Sono contente e lei mi fa guarda Beppe sono entusiasta della tua passione ma mi hanno chiesto che materia insegni perché alcun dopo due mesi perché io parlavo pensando al mio sapere non mettendomi nei loro panni ed è chiaro che questo sforzo lo devi fare ma lo devi fare stando dentro la scuola con una scuola che ti dà il tempo di analizzare il tuo lavoro con i colleghi di lavorare con loro e di riflettere non possiamo continuare a formarci a spese delle prime classi che incontriamo perché loro ci fanno misurare la realtà abbiamo bisogno di un approccio completamente diverso il tirocinio, il rapporto scuola-università e il tirocinio per gli insegnanti prima dell'ingresso dentro la scuola a mia parere è fondamentale di tutto questo ma di molto altro ancora si parla nel libro di Peppino Buondonno e di Beppe Bagni che lo ricordiamo è un testo che è stato scritto fra la fine del 2019 e la primavera del 2021 ed è una raccolta di epistole, di lettere anzi di mail per la verità che loro si sono scambiati scambiati durante il periodo appunto che poi è, guarda caso, anche il periodo del lockdown, quindi della chiusura della chiusura delle scuole quindi ovviamente potete ben immaginare si parla anche della didattica a distanza si parla di come i loro studenti stavano vivendo quella situazione si parla insomma di tanti problemi ne suggerisco la lettura perché è decisamente bello, divertente, interessante ricordo suonare in caso di tristezza non vi diciamo il perché del titolo perché così lo leggete e ad un certo punto c'è una bella lettera di Peppino Buondonno dove si spiega perché il libro si intitola proprio così grazie grazie